Ciao a tutti e bentornati sul canale! Oggi vi mostro una ricetta golosa, ossia la mia ricetta della panna cotta alla Nutella. È facilissima da preparare, vi occorrono pochissimi ingredienti e si prepara veramente in maniera velocissima. Ecco cosa vi occorre. Prendete un po' di acqua fredda e indifferente alla quantità e ci mettete all'interno due foglie e mezzo di gelatina in fogli. Due foglie e mezzo bastano per circa 400 ml di latte e panna messa insieme, ma poi vedrete sicuramente nella ricetta. La lasciate riposare per circa 10 minuti, nel frattempo vi preparate il latte e la panna, quindi 200 ml di latte e 200 ml di panna. Panna non zuccherata, quindi panna fresca. Mettete entrambi gli ingredienti all'interno di un pentolino, dopodiché lo andate a riscaldare. All'interno ci mettete un cucchiaio e mezzo di zucchero e un cucchiaino di miele. Questa è la quantità giusta per non rendere la panna cotta troppo dolce, quindi il giusto. Continuate a scaldare e alla fine, quando sarà completamente caldo, ci inserite i fogli di gelatina che ormai saranno morbidi. Continuate a mescolare bene per evitare grumi. Dopodiché preparate i vostri bicchieri. Io per esempio sul fondo del bicchiere ci ho inserito un po' di Nutella. Sto utilizzando in realtà la Nutella Novi, la chiamo Nutella, ma in realtà è crema alle nocciole, che è veramente molto buona e all'interno non c'è olio di palma. Dopodiché vado ad inserire il composto, quindi della panna cotta, che è ancora ben caldo, quindi è liquido. E questo composto andrà inserito all'interno del freezer e tenuto per circa 3-4 ore al freddo. Vi consiglio di coprire i bicchieri con della pellicola trasparente. Dopo 3 ore potete decorare la vostra panna cotta. Questo è tutto, spero tanto che il tutorial vi sia piaciuto. Se la fate, mi raccomando, fatemi sapere. Lasciatemi un bel pollicenso se il video vi è piaciuto e mi raccomando lasciatemi un commentino. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao! Ricordati di iscriverti anche al canale e a tutti i miei social.